Ciao a tutti! 5 ambiti che andavano dalla motonautica alle autostoriche alle autodarelli alle esibizioni della Ferrari per ricordare i 60 anni appunto del cavallino. Insomma sono stati 5 eventi e io nel video 43 vi mostrerò le foto del primo evento diciamo a cui abbiamo assistito il sabato che è appunto la rivocazione del circuito del Garda e del Garda Heritage Meeting. Nel secondo video che è il video 44 invece vi presenterò le foto della ronde di San Michele quindi è una gara in realtà di rally. Il testo ovviamente dell'articolo è lo stesso per cui sarà ripetuto però a tutti gli effetti è stata una delle manifestazioni veramente più complete per chi ha effettivamente la passione per i motori. Di tutti i tipi. Per darvi un'anteprima per esempio era presente anche uno scafo quindi parliamo di motonautica motorizzato Ferrari. Bene, ora vi lascio con l'ascolto della lettura dell'articolo, vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando poi appunto al video successivo. Ciao a tutti e grazie. Articolo pubblicato su GD Gentleman Driver nel numero di ottobre del 2007 Titolo Il 29 settembre l'Old Timer Heritage Club Brescia in collaborazione con l'ACI, l'AXAI e altre importanti realtà della zona ha organizzato Salò Historic Racing ovvero l'insieme di 5 splendide e differenti manifestazioni. La grande fatica nel gestire un evento di tale portata è però stata ripagata dai tantissimi appassionati che si sono riversati sulle sponde del lago di Garda e nelle strade che per anni hanno fatto da sfondo alle esaltanti sfide tra i vari Nuvolari, Farina, Villoresi e tantissimi altri campioni del passato. L'idea di fondo consisteva nel rievocare diversi eventi legati al mondo dei motori e soprattutto a Brescia, pierter a migliare del motorismo mondiale grazie soprattutto alla mille miglia. In questo weekend si sono voluti ripercorrere più di 80 anni di corse con i bolidi che hanno fatto la storia e che continuano con il loro fascino, i loro rumori ed anche odori, quale auto moderna farà mai l'odore dei veri motori di un tempo? A farsi circondare dagli appassionati, da semplici curiosi, ovvero da chi, anche senza riconoscere le differenze tra una relay ed una OM, rimane però colpito dall'ingegno umano d'un tempo. Le manifestazioni sono state cinque, circuito del Garda, Coppa dell'Oltranza, Ronde di San Michele, All Times Heritage Meeting e Buon Compleano Ferrari. Il circuito del Garda è nato nel 1921 e si è corso per 15 volte fino al 1966, quando si è capito che i circuiti cittadini non potevano garantire i margini minimi di sicurezza per i piloti e per il pubblico. Il primo periodo, sette edizioni negli anni venti, ha visto la nascita del motorismo brisciano ed è servito da guida per la mille miglia. Dopo la seconda guerra mondiale, ci sono state solo tre edizioni, con tre vittorie consecutive delle Ferrari. Le ultime cinque edizioni si sono tenute negli anni 60, con le Formula Junior e le Formula 3. In questa edizione 2007, tantissime auto protagoniste di quegli anni sono state riportate sulle stesse strade a distanza anche di 85 anni, come la Diato Tipo 20, di cui un esemplare simile ha vinto le edizioni 22, 23 e 24. L'ammiratissima tra le vetture presenti, quest'anno è già protagonista al tempo, è stata una Maserati A6 GCS Ex-Filloresi del 1947. Impossibile non emozionarsi vedendo una Bugatti Tipo 37 in controsterzo con una strana campanatura. Inutile poi cercare di capire quale passione, autolisionismo guidi questi moderni piloti, alle prese con delle gomme fuori tempo, con una protezione in temperie nulla e con un procedimento di accensione pari a quello di un moderno elicottero. Abbiamo misurato il tempo di accensione di una Bugatti in diverse decine di secondi. Altro che stop and start delle vetture di oggi. Il secondo evento è stato la Coppa dell'Oltralza. Organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Motonautica, la società canottieri Garda Salò e lo Yachting Club Sarnico, la revocazione ha riportato all'anno 1921, quando il Vate Gabriele D'Annunzio, ormai stabilito sia il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, voglio organizzare una manifestazione per celebrare la rapidità. Mente fervida di idee, D'Annunzio propose quella che sarebbe diventata una manifestazione molto importante per ridare vita e celebrità al Lago di Garda. Nell'edizione 2007, alla Coppa d'Oltranza, hanno partecipato barche relativamente recenti, soprattutto anni Sessanta. Erano però rappresentati tutti i decenni, dagli anni Quaranta al Settanta. Anche chi non è un profondo conoscitore della nautica è sicuramente rimasto stordito nel sentire il motore Ferrari rugire anche in acqua, a bordo di un Timossi del 1953, ovviamente rosso fiammante. Sebbene al termine fosse prevista una premiazione, anche in questa manifestazione è ben difficile dire quale scaffo fosse il migliore, perché ognuno di essi può essere considerato un'opera d'arte. La terza manifestazione è stata la Ronde di San Michele. Nel 1977, grazie alle idee della scuderia Bresciarelli e della logimiranza della Cibrescia, nasce il Rally Mille Miglia. Il nome ricorda la più famosa Mille Miglia, al tempo interrotta ormai da vent'anni, ed è importante con esso. Il rally ha l'onore di rappresentare il seguito della più famosa gara al mondo. Sono le prove speciali che fanno crescere di potenza questo rally. Tra queste quella di San Michele, piena di tornanti e curve in un suggestivo paesaggio a ridosso del lago, con il panorama unico del Benaco. Le sfide di un tempo si sono riviste quest'anno con le Porsche 911, le Lancia Stratos, le Lancia Rally 037 e Fulvia, i traversi di Dopo il Manta e Ocad GTE, il rugito della Dazun 240 e il dolce Dondolio della Peugeot 504 Coupé, con i colori ufficiali, anche in questa occasione navigata da un ragazzo non vedente, Oscar Savoldelli. Alla riedizione si è presentato un utrito gruppo di esperti della specialità, con annesso il miglior parco auto realistico anni 70 e 80. Oltre alle vetture già citate, vanno ricordate le 124, 131, le R8 Gordini, R5 Turbo 2, le Alpina 110. Un applauso speciale alla prepista su M3 e dai belgi dello Smith Motorsport, che hanno portato in Italia un MG Metro 6 R4, che nei nostri rally storici si vede con difficoltà. Questa in particolare sembrava nuova, appena uscita dal concessionario. La quarta manifestazione è stato il raduno Garda Classic Old Times Heritage Meeting, che ha visto la partecipazione di autovetture classiche provenienti da diversi paesi europei. Stupenda tra queste, la Corvette C1, scortata da una modernissima Porsche Carrera GT. Impossibile confrontare le due auto, anche se il fascino di entrambe agli antipodi non ha lasciato nessuno indifferente. Come un tempo, due grandi marchi automobilistici si sono trovati a Salò, uno di fronte all'altro, Lotus e l'Alfa Romeo. La prima è stata portata dal Golf Lift Team Lotus, che ha fatto vedere e sentire le Lotus 49 R6 e 72. Le altre, dalla Scuderia del Portello, squadra ufficiale Alfa Romeo, che ha portato le 159 Alfetta, 33 Stadale e la 6C. Ultima manifestazione in programma è stata buon compleanno Ferrari. In occasione dei 60 anni del marchio del Cavallino, gli organizzatori, memori anche delle tre vittorie consecutive al circuito del Garda, hanno voluto ospitare sotto la loggia sei vetture Ferrari, tra cui Enzo e 330 GTC. Anche qui, decidere la migliore è stata pura utopia. La prima è stata pura utopia di studio, perchéossi, ossia la loro vita, perché nessuno è diventato, sembra di più di più di più di più di più di più di più. Grazie a tutti.